Ora presentiamo anche Raffaele Raffaelli, amministratore di NamaEnergy. Volevamo un attimino fare qualche domanda, questa è la principale sponsor e volevo chiedere prima di tutto chi è NamaEnergy? Buonasera a tutti, come anticipato io mi chiamo Mazzoni Raffaele, sono l'amministratrice dell'azienda RamaEnergy che si trova qui a Cisterna di Latina. Prima di parlare della mia attività intanto volevo ringraziare tutti voi presenti, Manuela che ci ha dato insomma anche la possibilità di essere qui e l'associazione Liberamente per tutti gli eventi interessanti che si organizza nella nostra città. RamaEnergy come dicevo è un'azienda che si occupa di energie rinnovabili ed efficientamento energetico, quindi anche risparmio energetico. Quello che noi facciamo è proporre ai nostri clienti dei panchetti chiave in mano, quindi per adesso quello che appunto facciamo sono gli impianti di toneltaico, solari termici, cappotti termici, scaldacqua a pompe di valori, tutto ciò che permetta ad un'abitazione quindi di risparmiare sia in termini economici ma anche di diciamo sfruttare quelle che sono poi le energie provenienti dal rinnovabile e dalle risorse naturali. In effetti diciamo che stiamo costruendo quella che è la prima casa in Paglia nella provincia di Latina e la terza in tutto il Lazio. Ovviamente c'è chi non ha mai sentito parlare di queste case in Paglia, perché anche io insomma l'avevo volta e poi metto quella di cappuccetto rosso, quindi i tre pulcini, insomma quindi li devo. In realtà con il legno e con la Paglia sono diciamo delle strutture che permettono una classe energetica a più più, quindi diciamo sono antisismiche, riescono ad autoregolarsi rispetto proprio al riscaldamento e all'affreddamento e appunto sfruttiamo che in questo caso sono le energie rinnovabili e le risorse primarie, quindi quelle che troviamo proprio in natura. E ovviamente oltre a questo c'è anche un risparmio economico, perché in realtà costa meno rispetto alle tradizionali case diciamo che abbiamo consumato tutti noi. Io ringrazio Raffaella Pazzoli e poi mi sono naturalmente interessato. Ho anche il materiale pubblicitario 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 sulle sedie e abbiamo dimenticato di dire che il 17 settembre siamo insieme alla Regione Lazio a presentare questo progetto nell'Arabacis a Roma. Quindi sarà per noi una grande opportunità e ovviamente per chi vuole avere maggiori informazioni avete tutti i contatti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e un bocca al lupo per la vostra esecuzione. Grazie a tutti.